Ciao ragazzi, c'è il canale Bellavì, tifosi biancorossi e nemici biancorossi soprattutto, benvenuti a questo nuovo video del canale Bellavì. Allora, commentiamo questa prima vittoria stagionale del Bari, primo gol ufficiale della stagione 2023 del Bari. Il Bari va a vincere a Cremona 1-0 con gol di Sibilli. L'uomo più in forma del Bari, al 44esimo, alla fine del primo tempo, l'uomo più in forma del Bari va a segnare un gran gol, devo dire, un piatto destro, di interno destro, piazzato su spioventi di Moracchioli. E vinciamo una partita fuori casa, in casa di una squadra di Serie A, perché è una delle neosciese, le chiamo io. C'è una squadra che è stata eliminata nella scorsa Serie A e non è riuscita a ottenere la salvezza, invece è in Serie B, cioè la Cremonese. Cremonese che è scisa in campo con una line-up del 4-2-3-1, Ghiglione, Bianchetti, Ravanelli, Guagliata, Collocolo, Abrego, Zanimacchia, Bertolacci, Buonaiuto. Ecco una Cremonese che in generale è sembrata poca cosa, vi devo dire ragazzi, infatti non è fra le favorite in generale, è Ballardini molto caustico, molto, come dire, molto riflessivo, però non basta. La causticità, la riflessività non basta, Ballardini, una squadra che ha pareggiato in casa con la neopromossa, come Catanzaro, sette giorni fa. Sappiamo che poi le neopromosse possono essere anche delle sorprese, visto che l'anno scorso due neopromosse, alias su tiro le Bari, hanno giocato nella semifinale di play-off. E' il Bari, insomma, che ottiene una vittoria addirittura fuori casa e quindi conferma l'atteggiamento famellico di Migliani e della sua squadra fuori casa. L'anno scorso abbiamo vinto 10 trasferte, quest'anno si parte bene con una vittoria, no? Una vittoria. A Cremona andava bene anche un pareggio, devo dire che a Cremona andava bene anche una sconfitta se c'era la prestazione. Primo tempo Bari superiore, primi 30 minuti il Bari bene, dall'ultimo quarto di gara il Bari meno bene, ma è proprio l'ultimo quarto di gara che frutta al Bari il gol. Quindi primi 30 minuti è andato molto bene, molto bene il Bari, ha espresso un buon gioco, ha dominato il campo, ha giocato meglio della Cremonese. Poi al trentesimo si è un po' abbassato, la Cremonese ha preso un po' il piglio, però poi proprio dall'ultimo quarto di gara del primo tempo ha sortito il gol per noi. Un gran gol. Un gran gol di Sibilli, un piatto come vi ho detto prima. Insomma, siamo passati in vantaggio. Il problema è la troppa sofferenza del secondo tempo. Si rivedono i fantasmi nel secondo tempo di questo gioco troppo attendista, è un gioco speculativo di attesa che può sortire un gol avversario. E quindi questo è abbastanza pericoloso perché si rivedono i fantasmi dei gol presi al 95esimo, al 93esimo da Mignani. Delle squadre di Mignani le esempi si sprecano da Suttirol, andate le playoff, Frosinone l'anno scorso fuori casa all'andata, col Cagliari non c'è bisogno di menzionare tutte le volte. Insomma, è un atteggiamento che non piace, è un atteggiamento di sofferenza nel secondo tempo, tutto il secondo tempo. Il Bari che praticamente ha giocato di rimessa e di ripartenza per tutto il secondo tempo. Testimonianza ne è che Mignani ha tolto un centrocampista avanzato come Bellomo che ha fatto una grande gara e ha messo il difensore. Quindi se è un allenatore al 66esimo toglie un certo campista e mette un difensore, non è certamente un buon augurio di tranquillità per i suoi tifosi. Perché è prodromico di una situazione di sofferenza, di attesa dietro, un'attesa che non si può tollerare perché ne abbiamo viste troppe tante in questa scorsa stagione di gol presi all'ultimo. E volevo sottolineare che non cambia niente dal settantesimo al novantesimo perché al novantesimo oggi le gare sono ancora molto aperte visto che mancano di solito 10 minuti, 7-8 minuti per finire la gara. Quindi non cambia nulla, non cambia nulla e quindi non si può stare al sessantesimo, manca ancora 40-30-35-40 minuti alla fine della partita. E non si può stare lì, almeno che ci sia un po' di fraseggio, almeno che ci sia un po' di possesso palla. Alla fine qualcosina, proprio alla fine è venuta dal solito maiello, dal solito lottatore maiello che riesce un po' a tenere palla, a prendere fallo. Il gol, il gol l'ho visto pure io, non c'era assolutamente fuori gioco, quindi l'arbitro, scusatemi, prontiera un po' scarso sul gol. Un arbitraggio così così, un po' fragile. Alla fine maiello riesce un po' a tenere palla, che ci derà aiuta. Però insomma, uno dice, siamo sempre vincendo in casa di una squadra, dissi che l'anno scorso faceva la Serie A. Sono tre punti pazzeschi, voglio vedere quante squadre riusciranno a tirare fuori tre punti da Cremona quest'anno. Però è anche vero che una prestazione, una performance del secondo tempo lascia poco a desiderare. Perché è una prestazione che offre molto il fianco all'avversario. E se ti trovi la spizzata giusta, ti trovi il guizzo giusto, puoi prendere il gol. Questo è quanto. Primo tempo la squadra molto bene, iniziando dall'attacco, Nassi, Sibilli, Moracchioli. Bene, bene, bell'uomo. Un gioco intelligente, di personalità, di sostanza e mezzo a campo, di carisma, di tenere palla, di offrire anche dei buoni spunti all'avversario, buoni cross. Benali molto bene, anche nel primo tempo, di personalità. Un giocatore importante per noi, che secondo me dovrebbe avere più importanza, Benali. Perché è un giocatore importante per la Serie B. È un bel giocatore, se inserito in un contesto di squadra a centro campo, intelligente. Ecco, perché Benali è una pedina in mezzo al campo di fraseggio, di passaggio corto, di gioco nel fazzoletto. E quindi è un giocatore importante, perché lavora molto sui nervi degli avversari, è bravo tecnicamente, gioca molto con la palla a terra, gioca molto di testa. E quindi è un giocatore da tenere sempre d'occhio e sempre in considerazione. Quindi secondo me Benali può diventare davvero un valore aggiunto in questa stagione per il Bari. È da non sottovalutare. Anche Ricci fa una bella gara. Dietro Vicari, super devo dire, forse migliore in campo Vicari. E anche Dorval ha giocato intelligentemente, stando molto attento alla fase difensiva, e credo questi siano i dettami dell'allenatore. Una vittoria prestigiosa, una vittoria che suona un campanellino per la Serie B, perché sappiamo che in Serie B c'è un treno che bisogna seguire. Cioè questo treno bisogna seguirlo. Non è che inizia a pareggiare, inizia a fare così, le cose si mettono male. Perdi il treno delle squadre davanti, e poi è difficile recuperarlo nel corso del tempo. Abbiamo visto l'anno scorso che Cagliari, Pisa, Parma hanno perso un po' il treno, e poi non ce l'hanno fatta. Cioè il Cagliari ce l'ha fatta con i play-off e va bene, però non ce l'hanno fatta con la promozione diretta. Una volta che perdi il treno, come ripeto, l'anno scorso anche squadre molto accreditate, come anche il Venezia, insomma, hanno fatto fatica perché hanno perso quel treno iniziale, che poi non sono più riuscite a riprendere. Anche l'Ascoli l'anno scorso stava in posizione play-off per molto tempo, però poi un mesetto, un grigio, un mesetto e mezzo, due mesi grigi, hanno causato che l'Ascoli non riuscisse più nemmeno a, se non ricordo male, a qualificarsi ai play-off. Quindi è importante tenere un ruino di marcia positivo per la Serie B, fatto di vittorie, perché le vittorie poi ti tengono lassù. Io non guarderò la classifica fino ad aprile, perché non la guardo, perché vedo altro. Chiudo con le statistiche, tiri in porta per i Bari 1, per la Cremonese 6, tiri fuori dallo specchio 13 per la Cremonese, 5 per il Bari, quindi il Bari che fa un terzo dei tiri la Cremonese, per capire un po' la facoltà offensiva, fa 40% di possesso, 60% di possesso la Cremonese, e i falli, una partita poco fallosa, devo dire, Cremonese comunque con un bel fair play in campo, giocatori corretti, a contare un po' della Samp, ieri mi sono dimenticato di dire nel video sulla Samp, che potete vedere sempre sul mio canale, che la squadra è molto ruvida, la Samp l'ho vista ieri, molto fisica, molto fallosa, Cremonese è una squadra pulita, e complimenti al loro allenatore per questo gioco di fair play, questo gioco pulito, complimenti a Sibilli, primo gol, primo gol, primo gol ufficiale di questa stagione del Bari, che ci regala una importantissima vittoria, un'importantissima vittoria fuori casa, a Cremona, ripeto, dovremo evitare queste sofferenze, questo attendismo nel secondo tempo, giocare di più, perché non paga, questo atteggiamento di attesa, nel secondo tempo di sofferenza, di lasciare l'iniziativa agli avversari, di non uscire a fare tre passaggi, di non prendere possesso un po' del campo, non paga, non paga, e noi ne siamo super consapevoli, per quello che è successo l'anno scorso, fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, un supporto per chi vede il video, soprattutto per i non iscritti, è buona norma, iscriversi a un canale, quando lo si segue, su tutti i canali che stanno crescendo, sono uno dei pochissimi, che parla di Bari e Serie B su YouTube, alla prossima bella Vichers, un pollice se vi è piaciuto il video, cheers!